Omissione di atti d'ufficio e disturbo del riposo delle persone. Queste sono le due ipotesi di reato sulle quali la Procura di Pescara sta indagando per quanto riguarda la Movida in Piazza Muzzi. Il tutto parte da uno sposto del Comitato di Residenti Tranquillamente Battisti, nel quale si chiede ai magistrati inquiranti se siano stati esercitati o meno i poteri e i doveri che la legge impone riguardo al piano di risanamento acustico. Il piano di fatto c'è, ma quello che sta cercando di accertare la Procura, anche con l'invio dei carabinieri forestali nei giorni scorsi presso gli uffici del Comune di Pescara ad acquisire documenti e se questo piano sia stato regolarmente attuato oppure no. Alla base, due relazioni di ARTA e ASL, organi che fanno parte entrambi del Tavolo Tecnico per l'attività di sorveglianza e monitoraggio delle misure previste nel piano di risanamento acustico nella zona centrale di Pescara, relazioni in base alle quali veniva registrato un livello sonoro notevolmente superiore al valore limite di emissione notturno fissato dal piano di classificazione acustica approvato dal Comune di Pescara. In più, nella relazione dell'ASL si legge che non sono stati emessi, a far data dal 14 luglio del 2022, provvedimenti per porre rimedio a una situazione evidentemente fuori controllo. Al momento il procedimento è contro i gnoti, ma la questione è molto chiara. L'amministrazione comunale di Pescara non avrebbe mai reso operativo il piano di risanamento acustico e, al di là degli inevitabili rimpalli di irresponsabilità, se i reati dovessero essere accertati, la lista di eventuali indagati dovrebbe spaziare dalla parte politica a quella più prettamente amministrativa.